Il codice titolo o simbolo Nelle piattaforme Wubank, il codice titolo o simbolo, spesso chiamato semplicemente codice, è l'identificativo univoco di un titolo negoziabile. È importante capire come si costruisce un codice, perché rende la ricerca dei titoli immediata e tempestiva, oltre a dare la possibilità di sapere sempre su che mercato si sta operando e su quali eventuali scadenze in caso di derivati. Wubank basa i propri simboli sulla metodologia di Thomson Reuters, uno dei principali provider di informazioni finanziarie a livello mondiale. Come si costruisce un codice titolo Il simbolo è basato su una semplice codifica che dipende dal tipo di strumento. Per le azioni ed ETF il simbolo è composto da una prima parte che identifica il titolo e da una seconda parte, separata da un punto, che identifica il mercato. Quindi, ad esempio, sul mercato italiano l'azione ENI avrà come codice ENI.MI, come si vede qui, dove ENI indica il titolo, mentre separato dal punto MI indica il mercato di riferimento, che in questo caso è Borsa Italiana. Per capire bene il meccanismo si prende ora il codice ENI.DE. Qui il titolo è ancora ENI, ma il mercato di riferimento è quello tedesco, in questo caso lo XETRA, identificato da DE. Naturalmente, la parte del codice relativa al titolo non sempre corrisponde al nome. Ad esempio, FIMmeccanica sulla Borsa di Milano ha come simbolo SIFI.MI. Se si volesse negoziare un ETF, ad esempio quello sull'indice NASDAQ 100, si dovrebbe indicare QQQ per identificare l'ETF e poi O, separato da un punto, per il mercato NASDAQ, ottenendo QQQ.O. Come si è visto, la QQQ viene sempre in aiuto, grazie alla funzione di autocompletamento, che limita la necessità di ricordare tutto a memoria. Come si costruisce per i derivati? Ogni strumento derivato, future o opzione, ha una propria radice, che la prima parte del codice rappresenta il sottostante. Questa si può ricavare dal sito IVBank. Partendo dalla home page, è sufficiente scegliere Trading e poi Derivati in questo modo. A questo punto si sceglie e scopri tutti gli strumenti negoziabili e poi visualizza tutti i titoli della lista, in modo da espandere il menu che conterrà ora tutti i derivati disponibili. Per i future basta cliccare sul titolo scelto, ad esempio l'Eurostox 50, e nella finestra di dettaglio che si aprirà è sufficiente leggere l'ultima riga dove c'è scritto Simbolo. Come si vede qui la radice è STXE, che identifica il sottostante, quindi l'Eurostox 50, alla quale basterà aggiungere mese e anno della scadenza desiderata. In pratica, ad ogni mese corrisponde una lettera e ad ogni anno un numero corrispondente all'ultima cifra dell'anno stesso, ad esempio 5 per il 2015. Per la lettera corrispondente alla codifica mensile basterà consultare l'apposita tabella disponibile al link Codici dei singoli strumenti, che si trova in fondo a questa pagina e raggiungibile qui. Quindi, se si desidera costruire il codice per l'Eurostox 50, scadenza settembre 2015, si avrà la radice STXE, il mese U e l'anno 5, ottenendo velocemente il simbolo corretto STXE U5. Il codice è comodo per caricare velocemente un titolo in un book o grafico inserendolo manualmente e ottenendone direttamente la visualizzazione in questo modo. Basterà digitare nella casella in alto a destra il codice STXE U5, anche senza preoccuparsi delle maiuscole. Se la scadenza dovesse essere lontana, il book e il grafico rifletteranno la scarsa liquidità. Per le opzioni, la logica è la medesima, anche se sarà ovviamente necessario inserire anche lo strike price e la tipologia di opzione call put desiderata. Inoltre, solo per le opzioni, è necessario inserire alla fine del codice il mercato di riferimento preceduto da un punto. Ad esempio, per l'Eurex si utilizza .ex, quindi le opzioni, sempre riferite ad Eurostops 50, hanno la medesima radice STXE. Sempre da questa riga si osserva la necessità di inserire anche lo strike e il tipo di opzione. Per caricare quindi una call con strike 4000, cadenza a settembre 2015, basterà scrivere nella casella simbolo, ad esempio di un book, STXE 40000I5.ex in questo modo. Da notare infine che per gli indici si utilizza un punto all'inizio proprio per distinguerli dai titoli negoziabili, che, come visto, hanno all'inizio la radice. È necessario notare, come si vede qui sulla Quick Trade, che gli indici sono tutti disponibili gratuitamente in tempo reale senza necessità di sottoscrizione. Per ulteriori funzioni e per approfondimenti sulla piattaforma Quick Trade è sempre disponibile la sezione di aiuto, accessibile dal menu selezionando Aiuto, Help, dove insieme al manuale sono disponibili anche gli altri video tutorial di questa serie.